Musica Musica Sì ragazzi è tutto questo nuovo video di Kevin Uzumaki 50 E oggi andremo a fare altre summon Il nostro ciclo di ninja blazing Cominciamo Oggi ragazzi andremo a fare delle nuove summon Su due nuovi personaggi usciti E speriamo di trovare qualcosa di buono Ovviamente faremo sempre la solita una multi summon Una sola per le ninja perle che abbiamo a disposizione Però dai speriamo che ci sia qualcosa di buono Almeno qualche oro forte Non pretendo i personaggi banner Però almeno qualche oro forte Che non sia doppione possibilmente Allora Andiamo subito a vederli Come vedete C'è sempre il mitico anniversario Qua nella squadra principale Che lo sto usando tantissimo Ragazzi sono davvero felice di averlo trovato Ed ecco le quali andremo a fare su Kakashi e su Gai Che sono sicuramente i Kakashi e Gai Della guerra ninja Se non Massimo poco prima Però dai speriamo di trovare qualcosa di buono Che sembrano molto potenti Quindi Sicuramente se li trovo sarei felicissimo Dai su cominciamo con questa multi summon Sperando che ci sia qualcosa di buono Dai Speriamo in bene Ok Dai su Naruto carica il tuo Ultra potente Rasen Via Non arriva Sasuke Però possiamo sempre trovare qualche oro Vediamo Speriamo Non spaccarti ti prego Ok arriva Sasuke Perfetto Speriamo che esca qualche oro Almeno Anche più di uno Dai su Forza Due ce ne sono Ok Ce ne sono due Speriamo in bene che siano qualcosa di buono Ok Sono entrambi attaccati Vediamo Ti prego Non qualche doppione Ti supplico No Questa è fake Sicuramente Non è chissà che cosa Dai su Speriamo nella seconda No Stasso di doppione Basta Quante volte mi devo uscire Lui è quasi ability full Ho detto pure le cose qua Sì Infatti l'altro è in blazing bash Era giusto che Mi dava queste cose Perché sempre queste schifezze Devo trovare Vabbè ragazzi Vi faccio vedere il mio team principale Guardate È composto da questi TG A maggior parte sono Naruto Però sono davvero spettacolari Gli ho messo anche l'ability Ovviamente a Naruto soprattutto Sono davvero spettacolari Sono davvero Fortissimi Tutte e tre Questi Naruto qua Mi piacciono davvero un botto Che sono i più forti Che ho attualmente Quindi sono contento Comunque ragazzi Io si concludo qui Sono stato sfortunato Che abbiamo usato Una taglia fake Più un sasso di doppione Basta sasso di Mamma mia Abbiamo usato troppe volte Quel sasso di doppione Mi ha proprio stufato Vabbè ragazzi Quindi In questo giro Sono stato fortunato Speriamo che andrà meglio La prossima volta Comunque ragazzi Mi raccomando Mettete un bel pollice in su Se vi è piaciuto E iscritte al canale Se non l'avete fatto Attivate a capire le notifiche Così vi è una notifiche Di quando ti faccio un nuovo video Se è fatto questo è Sammo Ditemi cosa avete trovato Spero che a voi sia andata bene E ci vediamo alla prossima Ciao